Tre giornate dedicate alla natura. Da domenica 19 a martedì 21 novembre, la mostra d'Oltremare di Napoli ospita la Festa dell'Albero, un calendario di iniziative ad ingresso gratuito promosse dal WWF con il Corpo Forestale dell'Arma dei Carabinieri. Nelle aree verdi della mostra si terranno laboratori, teatro, musica. Sarà un importante momento di educazione ambientale e contatto con la natura per le scuole del territorio. L'educazione ambientale è fondamentale, noi ci siamo battuti perché diventasse materia di studio nelle scuole, ancora siamo lontani da tutto questo, però avvicinare i nostri bambini alla natura diventa ormai imprescindibile. Ognuno ha l'albero della sua vita e ognuno di noi è affezionato a un angolo verde della propria città. Noi ripartiamo da questo, in qualche modo Urban Nature vuole riscattare quella natura in città laddove esiste oppure laddove deve essere riportata, recuperata, come nel caso di Astroni. Questa Festa dell'Albero per noi quindi è un momento importante per fare educazione ambientale, per incontrare la cittadinanza, ma soprattutto anche per mettere insieme istituzioni, collettività, amministrazioni pubbliche per un grande progetto di riqualificazione urbana. Ma l'iniziativa promuove anche un gesto di solidarietà per l'Oasi WWF di Astroni a luglio devastata da un incendio. Nel corso della manifestazione sarà lanciata infatti una raccolta fondi per ricostruire gli Astroni attraverso la prima piattaforma social di crowdfunding meridonare. Il crowdfunding sociale, popolare, civico è molto importante perché le persone si sentono protagoniste anche attraverso un contributo economico alla valorizzazione del territorio. Nel resto per i beni culturali già è stata sperimentata con successo, adesso per i beni ambientali. Per partecipare basta andare sul sito meridonare.it e selezionare il progetto Salva il Cuore Selvaggio di Napoli. Tra le iniziative della Tre Giorni, il villaggio della biodiversità allestito dall'arma dei carabinieri e numerose attività per coinvolgere scuole e ragazzi nella valorizzazione del proprio patrimonio arboreo. Il messaggio politico, istituzionale, civico è fortissimo. La gente si deve schierare per la difesa dei beni comuni. Questo è un impegno che anche noi vogliamo fortemente e metteremo in campo una serie di iniziative proprio nella direzione della valorizzazione, della tutela e anche della ricostruzione del patrimonio ambientale che mani criminali hanno distrutto in quest'estate così dura sul fronte degli incendi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.